Ricostruzione che procede bene nei comuni del cratere relativamente al sisma del 2009. La percentuale, facendo una media, si attesta oggi al 50%, ma in alcune situazioni si toccano picchi più alti. È quanto afferma il titolare dell'USRC, Raffaello Fico. Nei comuni del cratere, a quanto pare, non c'è il divario delle due velocità tra pubblico e privato. Anzi, il titolare dell'ufficio spiega che le percentuali sono addirittura migliori per la ricostruzione pubblica, dove ben 50 scuole sono state riconsegnate. Se parliamo di ricostruzione privata, siamo ad un avanzamento del 50%, con punte dell'80% che in un paio di anni una decina di comuni avranno terminato e altri che sono molto indietro a causa del doppio sisma. Quindi la percentuale media è un po' forviante. Se andiamo invece sull'ambito della ricostruzione pubblica delle scuole, siamo messi meglio paradossalmente perché molte delle nostre scuole, parliamo quasi di 50 scuole in un territorio più ampio, perché riguarda anche i comuni fuori cratere, 50 sono state concluse. L'ultima Magliano dei Marsi è stata inaugurata sabato scorso, quindi sulla ricostruzione pubblica questo territorio sta facendo ottime cose. Il nodo del personale però, così come accade per l'USDRA, rimane un problema grave, un problema importante al quale ad ora non sono state date soluzioni. Usando contratti di somministrazione interinali si perde tempo prezioso per la formazione. Chi trova posti migliori poi, come si era già detto per l'USDRA, va via. La stabilizzazione, insomma, rimane un punto cruciale. Per quanto riguarda il personale, anche all'USDRA c'era qualche problema di personale. Per quanto vi riguarda invece? Il problema del personale è analogo perché c'è stata un'uscita complessiva di personale e oggi abbiamo una riduzione forte del 30% e quindi stiamo cercando di rinforzare il nostro personale con delle richieste di scorrimento, ma a questo si aggiunge anche il problema dei precari, per cui una parte, una fetta del 25% del nostro personale è a scadenza, per cui dovremo cercare di trovare le soluzioni che finora non sono state trovate per loro.